Sottore dell'attualità crescita di avaccinazione per ciò che tocca a terza dose, in cui l'interrogazione dopo la scubertura di un berzo no, ma di no, l'allargamento di un pubblico che si può fare vaccinare a parte di 10 giorni, vedremo se avrà magie soppronte a coi esteggiate. In custo a rinfriscare da fagio e brodi, mandi a calo o gabretto, saranno tappareti i taulini per queste veste, 20.000 sottombi ogni anno in corso, e capiremo come avvelire a s'organizzare a mena o a due mesi di veste di Nadale. Buonasera a tutti, casi sospetti di un berzo no soppistigati in Francia, conseguenza si deve più in più numerosi a fabbivare una terza dose o apiare un appuntamento, i farmagisti fanno parte di questi professionali che vaccinano e siano pronti per accogliere questa crescita dei pazienti. Femmo buono, Gianfilippo Mattei e la nostra squadra. Assa immondo stamani in sa farmacia di Vigulia. Sono appena 10 ore ed idia una decina di pazienti che ha ricevuto il vaccino, tre di qualche vaccinato, ma soprattutto terza dose è il caso di questa paziente. Tant qu'à fare, le fare tutto di suite, non c'è l'appel, perché non lo fare, non lo fare immediatamente. Ho l'impressione che siamo blocati se non lo facendo, siamo obbligati in qualche modo. Il dietro in sa farmacia ha vaccinato 120 persone a giorno, qui 712 di Pfizer e di Moderna sono stati amministrati in ultimi giorni, e dopo l'appuntamento non è più d'obbligo per fare la vaccina. L'ARS ci ha permesso di mandare autant di flacons che l'abbiamo, quindi è una cosa molto buona. E' ovviamente, quando i pazienti savento che possono venire senza rendezvi, ovviamente che i pazienti vanno venire molto più facilemente, e ci sarà meno di contrainti per loro. I vieni, on li vaccina, i ripartono un quattro d'ora dopo, i hanno il certificato di vaccino. Di petto a sacrifichato di domande di vaccino, e a paura di perdere il paziente sanitario, è varmaci e so tra carche, e l'organizzazione è complicata, per certe. Il y a un boom, perché in più, quando on commande i vaccini, la livrazione ha un delay di 10 giorni, cioè che io li ho commandi oggi, e li ho ricevuti il giorno prossimo. Quindi, abbiamo prevato i nostri doses, e c'è vero che dopo la settimana, siamo submergiti per l'écouto di telefono e le persone che vengono, d'autant più che il centro di vaccinazione dell'hospitalo di Bastia ha fermato. A Pumonte di No, i centri di vaccinazione sono solicitati assai. Qui in portico, l'affluenza è stata moltiplicata da tre, in qualità di vaccino i più paesi possibili. 80% dei persone presenti oggi venivano per una terza dose. L'istesso costato di Noiaccio è domanda se stanno assai. Tutto questo week-end, abbiamo fatto 400 e 400 doses durante il week-end. Ci sono essenzialmente delle terze dose, e già ho capito che ora dovrebbe vivere anche con il Covid, e che, maldovemente, con i nuovi varianti che arrivano, l'immunità diminua non più di 6 maggi, ma di 5 maggi, e quindi abbiamo bisogno di fare un rappel. Odiega Odie, a Corsica è davanti all'altro rudione, il 13% dei persone con una terza dose, contro 9% per la mezzana nazionale, secondo gli ultimi chiffri di Sant'Epubblica Francia. L'Ingustizia, 5 giovani di una ventina anni, compariscono davanti all'assise di Uggis Montes, sono perseguiti per rupeggio iulente e sequestrazioni. Non c'è un copio di ridirade a comune di Gurbà a 4 anni va, un progetto che ha cominciato in cui ridardo. Sobra l'uco al brazo di Justizia, Pierrick Nanini e Tifenn, Urtis Veria. Cebù il sud aspettato, se ne ha tre ore su dopo mezz'orno, per cacciare l'incertezza in giro a subruggis. Infatti, il corpo a mancanza di Urad, c'è stata assai e assai dubbi di non t'adenuta di subruggis. Ma dopo un'ultima ricerca di Urad di Stamane, l'audienza bussò dal principio. Al di là di qui, altro problema, mancanza inutile di testimoni e inchieste ore che dobbiamo passare. Fatta via, non abbiamo una giornata di audienza disturbata che ha fatto nasce a Zerg da parte di l'Augado, ma di noi di l'Augado Generale e di Presidente. Allora, si tratta di uvondo di stafare con l'esame della personalità dell'accusato i vatti, e lì, un arrubeccio, con la sequestrazione, accaduto nel 2017, in Bodri, comune di Gorbara, e vittime, Jean-Pierre e Olga Romani, un copio di commercianti di isolati, anziani, li sarebbe stato arrucati di più di 10.000 euro. di Pier Alessandri e Alain Ferrande, dove si tratta di un lavoro. più che tradizionale, ma dibuoi pareti anni a oa suzus, mari, chapena. Poulsalore e Aurore Tibor hanno provato a capisceberche. O capretto è a roba tradizionale di vestiti fin d'anate in Cortica e un mese innanzo Natale l'alivatori so pronti. Qua zoanda ad una centinaia di capri Paul-Marie Nicolosi sa pronta risponda a domanda, ma d'après sa edu nisun dubbi tua tradizione rincula. È sempre stata tradizione per Natale, ma la società cambia e la famiglia non so più che le so e così. Un costato spartuto in desumace edu, se o Gavretto ferma un puntedo di vestiti, cambiano i luci e si stanno in d'altra abitudine. Ci sono le tradizioni che non sono mica tramandate, come ho fatto di comprare il Gavretto, come si vede a Libra in dei paesi. e quindi anche se si sono riportati un'antra astri prodotti, come il Chappone e le dente e a fare così ciò che fa che hanno rilasciato appena il Gavretto. A Villiera Capruna ferma un puntedo di l'agricoltura Gorza, non talisola ciso 180 alivadori per 20.000 Gavretti tombi ogni anno un modello d'Aleu che lo d'Arc vuole cutedia par via Donarnezi Gorsiga s'aspetta ormai a redazione di criteri d'intrata di chi permetta salvezza e sviluppo di a Villiera puntedo di un pastoralissimo isolato. E poi in Coupa Ivrancia o Sporting Qualificato o P.O. Brussi Mugiru conoscera o suo adversario sarà o a squadra di O Lyonnais o Bourgogne a Lio due squadra di Nazionale 3. Prima di gompi Ecco, P.C. Nodiziale l'informazione continua dentro da internet e redazogiale che rideremo domande a Mediorn per vostro Kursi Gabbri Buonasera a tutti. Musica